Problematiche del lockdown, problematiche adesso dopo il lockdown, siamo sempre sotto Covid-19 e c'è una problematica che non è mai stata affrontata, quella dei bambini autistici e del tampone. Io sono la mamma di un bambino con disturbo dello spettro autistico. Il problema più grande per noi è quello dopo il lockdown, che ci siamo ripresi con grande difficoltà, è quello adesso di affrontare la problematica del Covid e quindi affrontare il problema del tampone. Allora, io capisco che siamo in emergenza, capisco tutto, ma per noi affrontare un tampone diventa veramente una cosa estremamente difficile. Un test sierologico? Ecco, io quello che ho chiesto alla mia dottoressa, se era possibile in caso di ipotetico, raffreddore, tosse o quant'altro, poter fare un sierologico. Mi è stato risposto di no. Io mi chiedo perché non è possibile fare un sierologico per una persona con una disabilità mentale quando in tutte le scuole d'Italia, in tutto il personale ATA, i docenti, gli assistenti educativi invece hanno fatto un sierologico e per loro è stato, insomma, accettato. Inoltre, per noi sarebbe veramente difficile vivere la situazione del tampone perché i nostri figli, purtroppo so di bambini che l'hanno fatto in questi giorni, che sono stati tenuti con la forza, hanno subito quindi per loro proprio una violenza fisica e loro non capiscono che devono stare fermi perché stando fermi fa meno male, non riescono a capire che è pericoloso muoversi. Quindi io chiedo a qualcuno una risposta per i nostri figli.